oggi dedichiamo la puntata al robotaxi e non poteva essere diversamente a tra poco bentornati all'ampi di tesla in questi giorni si stanno susseguendo una marea di notizie una dietro l'altra e infatti ne ho un po' che sto accantonando per riportarvele nei prossimi giorni oggi parliamo del robotaxi perché proprio dopo la registrazione della puntata di ieri Elon ha sganciato la bomba e questa bomba è con un messaggio molto molto criptico ma abbastanza esplicito l'8 agosto verrà presentato il robotaxi ecco questo è quello che ha detto Elon e da qui sui vari social su x insomma sui giornali sui media è venuto fuori un putiferio perché vi ricordo quello che è successo a premessa di questo tweet attenzione non sto dicendo che è una conseguenza ma ci arrivo però effettivamente la conseguenzialità temporale ha fatto in modo che determinati pensieri si incastrassero in un certo modo piuttosto che in un altro ora vi spiego tutto perché perché ieri proprio a premessa di questo tweet del robotaxi c'era stata la diatriba di reuters che diceva che tesla secondo loro informazioni aveva cancellato il progetto della tesla piccola quella da 25 mila dollari Elon aveva controbattuto subito dicendo che non era vero ora questa cosa del robotaxi sembra valorare invece la tesi di reuters ma andiamo coi piedi di piombo perché oggi facciamo un ragionamento ed è una mia opinione personale però a me piace ragionare insieme in base a quello che conosciamo e quindi speculare su quello che potrebbe effettivamente accadere perché la verità ce l'ha solo Elon a questo punto perché io secondo me il tweet di Elon del robotaxi mette insieme tutta una serie di pezzi di un mosaico che effettivamente ha molto senso cioè secondo me è andata a chiarire tante cose è andato a chiarire anche effettivamente la notizia di reuters perché che dico questo perché la notizia di reuters era basata sul fatto che tesla per vari motivi volesse puntare tutto sul robotaxi nel minor tempo possibile eliminando altri progetti quindi il progetto della tesla piccola poi Elon dice appunto facciamo il robotaxi l'otto agosto e quindi sembra che tutto torni effettivamente non è proprio così perché come ho già spiegato ieri il robotaxi non significa semplicemente un nuovo veicolo ma significa molto di più ma ci arriviamo con calma nel ragionamento che facciamo oggi e poi mi dite se siete d'accordo oppure no allora intanto capiamo che cos'è il robotaxi per tesla perché robotaxi è qualsiasi tesla dotata dell'hardware necessario per far funzionare la guida autonoma quindi per esempio la tesla in cui sono seduto in questo momento per esempio la tesla che avevo negli stati uniti quando abitavo là oppure quella che ho noleggiato quando sono stato a Austin quindi il concetto di robotaxi come espresso già al primo autonomy day anni fa è proprio questo cioè ogni tesla potenzialmente è un robotaxi a cosa si riferisce Elon quando parla dell'otto agosto si riferisce a un veicolo specificamente devoluto a essere un taxi autonomo quindi immagino ci arriviamo alla fine senza volante con una disposizione dei sedili fatte in modo che comunque non serva più quello del guidatore quello del passeggero cioè è un'auto un mezzo completamente ripensato ridisegnato perché non ha bisogno di quello che serve in un'auto normale dove c'è una persona che guida ecco quindi questo è il punto di partenza ovviamente un mezzo che deve costare molto molto poco quindi non si parla di prestazioni non si parla di cose varie deve essere un mezzo che appunto deve costare poco offrire dell'intrattenimento e portare in giro le persone punto questo è questo è robotaxi ma ancora di più e qui mi ricollego a quello che ho detto ieri robotaxi non significa che tesla farà questo abbandonando la tesla piccola perché tesla con il robotaxi e con la tesla piccola sta lavorando a un nuovo sistema costruttivo completamente innovativo quindi nel momento in cui tesla va a produrre prima il veicolo robotaxi ma la stessa lo stesso concetto di linea produttiva può essere usato anche per la tesla piccola e questo l'ho detto anche ieri prima del tweet quindi vedete che tutto torna secondo il mio ragionamento è attenzione secondo il mio ragionamento andiamo un po più nel dettaglio perché non dobbiamo pensare che una decisione di tesla in questo caso robotaxi debba per forza essere vista a livello globale perché non può esserlo perché l'fsd oggi funziona ancora a livello 2 funziona però solo negli stati uniti per scelta di tesla e attenzione per scelta di tesla che ha detto prima lo faccio funzionare bene negli stati uniti che venga approvato eccetera e poi comincio a esportarlo all'estero quindi cosa dobbiamo pensare dobbiamo pensare che la decisione di dare priorità al robotaxi riguarderà gli stati uniti e quindi cominciamo a ragionare con le fabbriche sappiamo anche che la prima linea di produzione con questo nuovo metodo costruttivo ora ve lo ve lo accenno si chiama unbox process ed è stato presentato l'anno scorso all'investor day dove l'auto segue un processo diverso e tutta la catena produttiva è più efficiente più efficiente significa che costa molto meno ci vuole meno tempo meno personale meno risorse insomma costa meno il prodotto questo è il punto quindi dicevamo viene creata innanzitutto in texas perché perché io non ho detto che ha bisogno che la prima linea di produzione venga fatta vicino al quartier generale cioè gli ingegneri devono dormire e vivere nella linea di produzione come è stato per model 3 a freemont stessa cosa quindi perché la scelta di del texas per questo motivo e quindi priorità robotaxi perché perché una macchina da 4 metri e 40 che costa 25 mila dollari negli stati uniti si ne venderebbero e ne venderanno a vagonate ma non è effettivamente una grossa priorità per due motivi perché comunque negli stati uniti una model y è considerata un utilitaria a livello di dimensioni secondo motivo perché negli stati uniti tesla continua ad avere un market share estremamente alto siamo ancora oltre il 60 per cento perché le europee non esportano elettriche perché le cinesi non sono ancora arrivate e quindi tesla non ha fretta di tirare fuori questa macchina quindi questo è il motivo per cui in texas nuova linea produzione nuova piattaforma dedicata al robotaxi messico ovviamente il messico parliamo della produzione almeno tra due anni e quindi lì secondo me tra due anni potremmo vedere già la produzione della tesla piccola per il continente americano quindi nord america messico e tutti quei paesi in cui tesla aprirà il mercato quindi parlo del sud america per ora c'è solo un paese ma immagino che da qui a due anni aumenteranno e qui avrà molto senso produrre la tesla più piccola piuttosto che robotaxi perché robotaxi sicuramente in quell'area almeno da qui a due anni non funzionerà quindi questo è il primo punto andiamo avanti una volta creata la linea di produzione il secondo step è fare copia incolla su berlino perché berlino perché ovviamente in europa è molto più importante andare a produrre un'auto più o meno delle dimensioni 4 metri 40 e più o meno dovrebbe essere così quindi una model y più compatta con questo nuovo metodo costruttivo abbattendo i costi e quindi poi i prezzi all'utente finale perché è più importante perché ovviamente c'è più concorrenza da parte dei costruttori europei e comunque asiatici quindi sì cinesi ma anche altro e soprattutto e questa è una notizia che vi avrei dovuto dire ieri ma ve la dirò domani l' fsd purtroppo si sta allontanando un pochino ne parlo poi nel dettaglio domani vi spiego tutto e allora non ha senso pensare a robotaxi in europa oggi ma neanche tra un anno o due anni a meno di colpi di testa da parte del legislatore quindi lì sì che si prende la piattaforma ottimizzata di del texas e la si porta a berlino per produrre la tesla piccola questo è il senso mi state seguendo spero di sì a questo punto passiamo alla cina ora in cina ha senso andare a produrre una tesla piccola magari nel giro di un anno due anni senza avere ancora i volumi che si farebbero a berlino e quindi con i prezzi ancora un po alti in un mercato che è quello più competitivo in assoluto ma sappiamo che invece in cina qui mi ricollego poi a reuters ci arrivo tesla sta spingendo tantissimo per cominciare a sperimentare l' fsd e quindi probabilmente in cina tesla spingerà tantissimo per la produzione robotaxi la notizia di reuters e le notizie di reuters in generale coprono soprattutto shanghai e l'area comunque cinese di tesla e da qui secondo me reuters tramite informazioni ha dedotto tramite probabilmente informazioni che ha avuto sia dall'interno che dai fornitori che tesla abbia dirottato il progetto su robotaxi il che di base è corretto ma è scorretto dire che ha abbandonato il progetto della tesla piccola quindi io la interpreto così ma c'è un altro tassello e ne abbiamo parlato proprio due giorni fa che tesla sta esplorando tre siti in india per andare a costruire una fabbrica diciamo piccola per le dimensioni tesla quindi un investimento di 3 4 miliardi di dollari per una produzione di circa 500 milioni di auto l'anno che auto sarà sarà sicuramente una tesla piccola che è molto più adatta a un mercato che può essere quello indiano ma che può essere quello che poi viene esportato anche in asia quindi secondo me tutti i tasselli del puzzle vanno a confluire correttamente in questo ragionamento almeno io sinceramente la penso così ma ora andiamo un po più nel dettaglio e cerchiamo di capire che cosa significa piattaforma e perché non voglio dire che è intercambiabile ma quasi perché innanzitutto dobbiamo pensare alle tecnologie che tesla ha tirato fuori per esempio con cyber track prima su tutte lo steer by wire questo è fondamentale perché tesla ha voluto lo steer by wire sul cyber track poteva farlo anche normalmente ma ora gli viene comodo perché ha già la tecnologia per fare cosa per mettere esattamente gli stessi motori più piccoli probabilmente con la stessa sensoristica che ha sul cyber track ma nel robotaxi senza volante attenzione qual è il grosso vantaggio dello steer by wire è che io la stessa tecnologia identica cioè il robotaxi lo posso guidare paradossalmente anche col cellulare perché perché mi basta connettere un dispositivo la sto semplificando ma mi basta connettere un dispositivo alla macchina che mi permette di azionare i motori che azionano lo sterzo senza nessuna connessione fisica e io materialmente guido la macchina dove voglio arrivare voglio arrivare al fatto che tesla può produrre tranquillamente il robotaxi ma sulla stessa struttura può produrre anche la tesla piccola cioè tecnicamente gli basta aggiungere un volante attaccato alla macchina da una parte o dall'altra quindi anche per i paesi con guida a destra cercate di di capire il senso di questo tipo di tecnologia che flessibilità dà alla catena produttiva è veramente rivoluzionario la seconda cosa è la questione batteria la batteria non è importante che sia con le 4680 che sia con le blade o che sia con qualsiasi altra tecnologia la cosa importante che sia strutturale e che costi poco perché ripeto devono essere mezzi che costano poco e non hanno bisogno di picchi di potenza perché non è quello l'obiettivo quindi perché strutturale perché deve avere giga casting anteriore e posteriore sempre perché in grossi volumi conviene avere giga casting quindi potrebbe avere tranquillamente le 4680 negli stati uniti o comunque dove vengono prodotte le 4680 magari a berlino inizialmente potrebbe avere le blade per esempio quindi non fossilizziamoci sul tipo di batteria altre tecnologie vabbè ovviamente il mega casting ve l'ho appena detto 48 volt a questo punto partendo dal cyber track io credo che in tutti gli altri progetti futuri adotterà il 48 volt anche per fare comunque volume però capite bene che il senso di piattaforma di sistema costruttivo più che di piattaforma si deve sviluppare in questo modo quindi questo secondo me ragionamento che bisogna fare ma ora vediamo un attimino vi faccio rivedere una slide del dell'investor day dove tesla ha fatto vedere in generale quali sono i veicoli non solo che tesla produrrà è perché questa slide ci ho messo un po capirla infatti se andate indietro nel video vecchio ve l'ho spiegato ma sono i veicoli elettrici che servono diciamo per una transizione completa a livello globale anche i numeri sopra riguardano la flotta globale non solo di tesla e dice di questo tipo di veicolo servono tot milioni di auto di questo tipo tot milioni non solo di tesla e come vedete sulla destra ci sono quei due nuovi veicoli ora uno che sembra più piccolo uno che sembra un po più minivan fondamentalmente la base di quei due veicoli sono una un'auto utilitaria e l'altro invece un sistema di mobilità completamente autonomo questo è il senso che cosa potremmo aspettarci per come veicolo robotaxi secondo me ci sono due scuole di pensiero la prima parla di un veicolo abbastanza piccolo compatto due posti addirittura due posti perché a tesla piace la statistica per vari motivi lo abbiamo visto anche nelle macchine per esempio quando ha tolto la regolazione lombare del passeggero perché non veniva mai usata per esempio perché perché la maggior parte delle corse in taxi sono di una massimo due persone statistica quindi potrebbe seguire questa strada oppure potrebbe fare esattamente l'opposto quindi andare a creare invece un mezzo con magari sei otto dieci posti come alcune alcune grafiche veramente vecchie non so se vi ricordate di quei mezzi che andavano sotto terra nei tunnel eccetera quelli erano mezzi a grossa capienza quindi le due strade potrebbero essere queste qua ma non è importante l'importante è capire che la piattaforma quindi il sistema costruttivo è la chiave di tutto esattamente come ho detto anche ieri quindi secondo me questo è il ragionamento da seguire secondo me poi tutto è il contrario di tutto ora 8 agosto mannaggia ilon in alta stagione stavo guardando già i biglietti per osti un disastro vabbè comincerò a mettere i soldini ho già cominciato a muovermi per mettere le mani avanti per recuperare un invito sarebbe bello poter andare vediamo vediamo se se sarà fattibile vedremo comunque questo è il mio modo di vedere le cose fatemi sapere cosa cosa ne pensate voi dai fatemi sapere nei commenti beh detto questo ora passiamo ai ringraziamenti e saluti perché il video di ieri devo dire che ha scosso un po gli animi avete commentato in tantissimi veramente in tantissimi tanto tagliato i capelli così non sembro brizzolato capelli quelli che rimangono però devo dire che il vostro supporto in tutti i sensi si fa sentire davvero quando serve e vi ringrazio tantissimo di questo ora mi avete supportato materialmente in tanti e quindi faccio un po oggi un po nei prossimi giorni quindi grazie grazie a tutti davvero vorrei cominciare con antonio che mi ha scritto ho appena visto il tuo ultimo video un piccolo sostegno da un affezionato membro della community grazie mille davvero antonio grazie mille poi salvatore mi ha scritto ho appena finito di vedere il video questo il mio piccolo contributo per la comunità in generale poi mi ha scritto altre cose non non mi dirungo troppo grazie mille anche ad andrea ti aspetto con la model x per fare la prova consumi ci mettiamo d'accordo ciao fabrizio grazie per il lavoro la passione per questa comunità di appassionati di auto e di una mobilità più sostenibile un caro saluto grazie mille davvero andrea l'ultimo per oggi mauro grazie anche a te un piccolo contributo per il tuo canale che seguo con molto interesse abito a pisa quindi ti aspetto ai raduni ho una model 3 2020 e sono molto soddisfatto bene mi fa veramente piacere mauro e comincio a cantonare grazie a tutti per comprare il biglietto per per austin ma vediamo trovare gli inviti è sempre un terno all'otto però magari con questa nuova diciamo non voglio dire collaborazione però con questo nuovo via di comunicazione con tesla magari potrei potrei trovarlo non lo so vediamo ci lavoro grazie ancora a tutti questo è tutto per oggi e noi ci vediamo domani a questo punto perché c'è una marea di notizie da darvi che sono rimasti in arretrato ciao grazie